Dopo la prima fase in classe, gli alunni della scuola primaria di Giovi hanno fatto visita alle redazioni giornalistiche della città, entrando così nel vivo dell'iniziativa Giornalisti per i bambini raccontano il volontariato, realizzata da CESVOT con la collaborazione del comune di Arezzo. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura della solidarietà, promuovendo lo scambio tra scuola e associazioni del settore e grazie anche agli incontri con la stampa, gli alunni hanno approfondito la conoscenza di alcune realtà di volontariato. Anche la nostra emittente partecipa al progetto e Samuele, Sara ed Eloisa sono pronti a diventare giornalisti per TSD quando, il prossimo 15 novembre, saranno proprio loro a rivolgere le domande agli operatori del volontariato a retino durante una conferenza stampa. Per la nuova troupe di Piazza San Domenico è stato scelto un focus sulla fraternità Federico Bindi e Hauser, l'associazione che promuove l'invecchiamento attivo. La strada scelta è complessa, però è una strada che gli permette di provare delle emozioni, quindi loro proveranno delle emozioni in conferenza stampa ragionando di questi temi. Quindi io penso che di questi temi e di queste associazioni, di questo volontariato rimarrà nella loro memoria ricordo, perché l'hanno proprio, non solo studiato, ma studiato con i giornalisti, vissuto e vissuto in un momento di grande adrenalina, quale sarà quello della conferenza stampa del 15 novembre. Tutti gli step del progetto sono filmati e diventeranno oggetto di un breve documentario e di uno spot realizzati dai registi. Maria Erika Pacileo e Fernando Maraghini Maria Erika Pacileo e Fernando Maraghini